La vostra festa sarà un'esplosione di colori, emozioni e profumi, grazie alla complicità di uno staff altamente qualificato e alla magia che avvolge lo spettacolare scenario del Manfredi Ricevimenti, location da sogno in cui ambientare un matrimonio indimenticabile. Manfredi Ricevimenti metterà a vostra disposizione diversi spazi per una capienza totale di 350 persone. Il Salone delle Feste, che presenta un arredamento elegante con un giusto equilibrio tra elementi moderni e classici e ampie vetrate che permettono una piacevole illuminazione naturale. Il Salone della Corte, invece, con ampie vetrate che si affacciano sul giardino, impreziosito da caratteristici lampadari di Murano e rifiniture dai colori caldi. Il giardino presenta innumerevoli scenari con piscina, fontane, cascate e suggestivi giochi di luce, che vi permetteranno di allestire scenografie uniche per una festa veramente esclusiva. Il vostro ricevimento sarà memorabile, reso speciale dalle idee originali dello staff, attento alle vostre richieste e preferenze affinché tutto sia di vostro assoluto gradimento. Al vostro banchetto verranno presentati piatti legati alla tradizione locale, elaborati con sapienza dagli chef, che prediligono prodotti di stagione e freschi, per garantire un gusto autentico e irresistibile, accompagnato da un servizio eccellente.